E' terminata la campagna della conferenza episcopale italiana Liberi di partire, liberi di restare, lanciata nel 2017 in risposta al dramma delle migrazioni. 130 i progetti realizzati, 110 gli interventi avviati solo in Italia. Ascoltiamo. Sono 130 per un totale di oltre 27 milioni e mezzo di euro i progetti realizzati grazie alla campagna Liberi di partire, liberi di restare, lanciata tre anni fa dalla conferenza episcopale italiana per dare una risposta concreta al dramma delle migrazioni. Lo rende noto la CEI. I progetti sono stati finanziati con i fondi dell'8x1000. 110 interventi sono stati avviati in Italia. Di questi 29 sono stati promossi da associazioni, istituti religiosi e cooperative e 81 dalle diocesi per un totale di 15 milioni di euro. Sette progetti sono stati finanziati nei paesi di transito, ovvero Marocco, Albania, Algeria, Niger, Tunisia e Turchia per oltre 4 milioni e 200 mila euro. 13 iniziative sono state invece avviate nei paesi di partenza Mali, Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal, Gambia e Guinea per uno stanziamento complessivo di oltre 8 milioni di euro. I dati sono stati forniti dal segretario generale della CEI, Monsignor Stefano Russo, che ha anche ricordato gli ambiti di intervento che sono educazione e formazione, anche professionale, informazione, sanità, inserimento lavorativo e riconciliazione con i bambini e le donne destinatari privilegiati dell'iniziativa. La CEI la considera un'occasione preziosa non solo per la Chiesa, ma per tutta la società. C'è bisogno, sottolineano i Vescovi italiani, di agire concretamente con giustizia e di avere informazioni corrette, riconoscendo non solo la complessità dei problemi riguardanti le migrazioni, ma anche ricordando a tutti che i migranti sono un valore e un tesoro per le città e i paesi. Tra le opere di giustizia su cui verremo giudicati, ha detto il presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, ve anche quella dell'accoglienza nei confronti degli stranieri. La campagna per Bassetti è stata un lungo cammino di condivisione di storie e di iniziative che hanno cercato di gettare uno sguardo e porgere l'aiuto possibile sul vasto fenomeno delle migrazioni, che interessa da sempre il bacino del Mediterraneo, ma che ormai è divenuto un fenomeno planetario, con milioni di persone in tutto il mondo che sono alla ricerca di una vita migliore.